In due alternato Andiamo Tesa, tesa, se va piano Esatto, non deve avere il tempo di voltarsi Quindi tu stai anche più vicino rispetto a lui Avvicinati pure E lui fa un passo in avanti E non deve ruotare mentre diventa in pratica Sennò succede questo, esatto Mia, cazzo! Yeah! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti